L'acqua di Montedoglio arriva nei rubinetti delle case di Marciano della Chiana. Nuove acqua, infatti, da poco concluso i lavori per far arrivare la risorsa idrica dell'invaso tiberino all'impianto di potabilizzazione di Cesa e da lì essere immessa nell'acquedotto di Marciano. Marciano ha a Cesa un potabilizzatore che attualmente è servito dai pozzi e a questi pozzi invece ci abbiamo collegato il tubo dell'acqua che viene dalla diga di Montedoglio. Con questa acqua sostituiamo tutti i pozzi, non abbandoniamo pozzi, ma avranno tutti i cittadini di Monte Marciano, di Marciano e anche di Cesa, di Badicorte, quindi tutta la parte del comune avrà l'acqua di Montedoglio che è un'acqua buona ma soprattutto c'è la certezza della quantità. Quindi in questi giorni stiamo passando da un terzo che c'era di acqua che gli diamo al totale perché dobbiamo modificare anche l'impianto di potabilizzazione in quanto era un impianto complesso per la potabilizzazione dell'acqua che c'era lì dai pozzi. Invece questa è un'acqua più semplice da potabilizzare, interventi minimi c'è da fare. Quindi questo è uno degli interventi che abbiamo fatto. Prossimamente, come ho già detto, faremo anche quello per il completamento di 100% di Foiano e poi c'è in ballo anche il tubo che passa dall'Uscignano andando verso Monte San Savino e che servirà anche Rapolano. Per la realizzazione dell'intervento Nuoveacqua ha investito circa 210.000 euro in parte finanziati da risorse pubbliche.